Buonasera bella gente, buon giovedì soprattutto e benvenuti in questa nuova puntata dello Zio Lord con il caro e amato primo capitolo di Data Asda edizione finitiva. Molto bene raga, prima inizia la Lai come sempre, vi ricordo, lo sembra tu, di che non sono mai solo e c'è sempre tanta altra bella simpatica in Lai. Chi abbiamo in Lai soprattutto? C'è il mio compagno di avventura Fabio Decax che sta portando Mafia edizione Gold, poi abbiamo la nostra bella Lady Lelia, Emorale che è passione, Nola, Sara Conno, Babarussi, Grey92, Ladycroff, Luke, la coppia estrema di Darrochiara, il gruppo di Tragiclub, Raki, Jenny, Kala, XMI, Pike15 e Sabi. Ok, datemi un secondo che adesso inizio pure io, sto preparando tutto, c'è un caldo della madonna, meno male tengo attivo ventilatore, gelato a ripetizione. Allora, vabbè queste tanto sono le missioni repetitive, dunque mappa. Allora, vabbè queste tanto sono le missioni più attività, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Allora, vabbè queste tanto tanto male, meno 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 male. Allora, vabbè queste anche, anche se dovessi poterenti già aiutti qui... Ecco la faccio prima. Dovevo andare qua, tanto non è lontano a piedi. Ora tengo il server libero così se nel caso qualcuno vorrà partecipare non ha che problemi. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Satellite phone was also unfortunately destroyed. I need you to go into the city. Find my restaurant, Café Kien, and tell Sergei there to give you a satellite phone. Bring it to me, and we will be off this piece of shit island in no time. Interested? Yes. Good, good. Give him this ring. He'll know you came from me. Now go. Hmm. Hmm. Do you know you? Check. Come on. Come on. Come on. Come on. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. . C'è un'altra cosa, mia figlia non può rimanere qui. Cosa? Soon non sarò nella mia mente giusta. Non voglio la perdere. Chiamo che la guardia. Non può proteggere la vita, non come tu puoi. Voglio che ti prendere. Scusate, bubba, non so. Hey, è questo quello che ti chiede? Then dà me quello che ti chiede. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look, look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! Go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Anything useful? All right. Now you're ready. Go get what we need, but stay safe. Don't take any stupid chances. You die out there, and our last chance to survive dies with you. Mom always wanted to come back here, but she never got the chance. We settled here after her death. The island helped him forget, and he poured his heart and soul into it. This is where my heart is, too. So, if we're supposed to help someone, let's just do it. Yes. All set? Let's go. I say we check out the church first. Anyone still alive would probably go there. I would. I would. Okay. Start it. Grazie a tutti 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 Hey, over here Help us Oh my God Those poor people We can't just leave the witness Help, help, help Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 This is not easy, but I would like you to lay them to rest, to stop their suffering, yeah? They dissolve peace, not this. Will you do it? Yes. Thank you. Could you help me let them know that I'm okay? I made some posters. If you can put them up around town, maybe someone I know will see them. Absolutely. Put my poster all around town, and maybe they'll be able to find me. Did you get those posters up? She has diabetes, and without insulin, she's not going to make it. Yeah, I'll give you a hand. Oh, God, thank you. There's a pharmacy not far from here, and I'm sure they have some insulin pens. Yes. I'll be right here. I'll be right here. I don't want to leave her. I'll be right here. I don't want to leave her. Is it done? Alcohol to disinfect the cuts and scrapes of the injured. So many are hurt. Yes. Good. Hurry. Infection could be more dangerous than the original injury. This is great. Thank you. If you find any more alcohol, we can always use it. Hold on, Lisa. Lisa. We'll be right back. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Questo è il mio ultimo vero e il testamento. Tu sei un testamento. Tu puoi raccontare. Grazie a tutti, ragazzi. Se sono ancora vivi, sono in la città. Mi sono portato a queste cose, per farlo. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. In the military they taught us how to kill, but no one ever told us what to do when your best friend is the enemy. You want to help us out again? Something's been bothering me. There used to be an army base here. This is where I was stationed. Ma già da questa insannità iniziavole, non ho visto un uniforme in ogni quale. Mi stia spiegando se l'armi ha qualcosa di a fare con questo. Non sarebbe la prima volta che una biotecnica è accidentemente riuscita. Non posso te rendere mai male, non? Certo, perché non sarebbe? Prendete questo registro e registravi tutto che tu senti. Ci sono due trasmittime su Bannoy. Una è sull'isola di prison, quindi non puoi perdere l'altro. Ma l'altra è in un'altra parte in la città. È un lungo scopo, ma potresti potremmo provare. Mi sapere cosa che vedete. Ok. Non prendere sempre, certo? Quali noti? I need a runner. I need you to run to the nearest pharmacy and bring me this. I've written it down for you. Make sure this is what you're getting. It should be in the pharmacy's refrigerator. Got it? You got it. Good. Go. You got it. You got it. You got it. Get this piece of shit out of me. Get this piece of shit out of me. Get this piece of shit out of me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.